Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Palla schizza via, prova! E c'è il gol! Palla in rete! Beh sì, è stato un gol di ottima fattura, però il divario tecnico tra le due squadre oggi è stato veramente enorme. Non si fermano più, ne hanno fatto un altro proprio nei minuti di recupero. Non si accontentano di vincere, vogliono umiliare la squadra avversaria.